I nostri mediatori culturali aiuteranno il pubblico che verrà a visitare Punta della Dogana e Palazzo Grassi nella comprensione dell'arte contemporanea e degli artisti presenti in mostra. I ragazzi che troverete a Punta della Dogana e a Palazzo Grassi sono tutti degli studenti di Ca' Foscari, delle diverse facoltà di lingue, di lettere, di filosofia e di storia dell'arte. I mediatori culturali non faranno delle visite guidate ma saranno presenti negli spazi espositivi, gireranno, quindi cammineranno, che è uno dei verbi chiave che troverete sulla schiena dei mediatori, sulle loro magliette e aspetteranno la domanda del visitatore. La cosa bella di questo progetto è che c'è sempre uno scambio costante tra il mediatore culturale e il pubblico. È un progetto che coinvolge quattro fondazioni, ossia la Fondazione Pinot con le sue due sedi, Ca' Foscari Esposizioni, che è una delle nuove sedi dell'Università Ca' Foscari, che ospita la mostra di Bruce Nauman collegata al padiglione americano, la Biennale di Venezia, nella sede dei Giardini e dell'Arsenale, e la Fondazione Quirini Stampaglia con la mossa di Monatù e il padiglione croato. Il servizio dei mediatori culturali è un servizio completamente gratuito, sarà presente nelle due sedi di Map in the Studio il mercoledì, il venerdì, il sabato e la domenica, dalle 10 alle 19.